Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il raccata film per voi. Stavo tenendo d'occhio un film interessante sulla carta, tratto dall'omonima graphic novel di Igor 5 e il numero perfetto. Un noir partenopeo che prende vita sul grande schermo e con un investimento di ben 4 milioni di euro nella produzione alle spalle. Il prodotto finale, devo ammettere, mi ha decisamente sorpreso. Non me l'aspettavo proprio questo debutto folgorante da parte dello stesso Igor alla regia. Una direzione chiara, essenziale, ma sempre ottimamente impostata. Non c'è un'inquadratura fuori posto, un dialogo stonato con quello che si vuole rappresentare. Non gode di certo di un'atmosfera giocosa, di un ritmo indiavolato, cioè da metterlo in chiaro, ma è proprio questa la forza del film. Si opta per un'immersione totale e un tono solenne che si manifesta lungo il corso dei cinque capitoli di cui il titolo è composto. Cinque è il numero che compare nel titolo e cinque sono le sezioni da valutare per comprendere al meglio lo stato d'animo del protagonista Peppino Locicero, interpretato splendidamente da Tony Servillo. Si tratta di una lenta discesa verso la condizione di desolazione e abbandono di questo guappo di altri tempi, perennemente votato al crimine da commettere a sangue freddo senza una reale ricompensa ad attenderlo. Un'anima che vaga per le strade di una Napoli immersa nella pioggia, un uomo affranto e logorato da una carriera ormai giunta al termine. E sembra di stare assistendo alla riproduzione di un capitolo di Sin City, per quanto mi riguarda. Un romanzo nero cerca di tingersi di colori accesi. Cinque è il numero perfetto, conta su una messa in scena miracolata che vanta di una fotografia ricercatissima, sempre utile a tratteggiare profili di personaggi misteriosi che agiscono nell'ombra. Igort si lascia trasportare dalle interpretazioni e si fida degli attori che prendono parte al suo progetto. Figura anche come sceneggiatore. E nella gestione dei dialoghi il film mi ha ricordato molto una pellicola di Marty McDonagh o un Drew Goddard di sette sconosciuti Royal, così come Slave in patto criminale, o il Tarantino degli esordi. Pellicole queste che si affidano a interi monologhi, apparentemente senza senso, o a scambi tra due personaggi chiave che potrebbero distogliere la nostra attenzione dal girato. Eppure tutto torna, i concetti espressi nel primo atto magari ritornano a galla nelle ultime battute. Uno schema narrativo che funziona, scorre benissimo, non si vuole glorificare la violenza o esaltare il momento adrenalinico ad ogni costo. In verità si compie una scelta molto più ragionata, che porta a valorizzare le performance attoriali e l'impianto scenografico certosino. Con suggestioni impresse con forze e atmosfere da assaporare minuto dopo minuto, senza affrettare la corsa o movimentare all'improvviso il racconto, 5 è il numero perfetto, porta con sé un equilibrato contrapunto fra tensione assassina, estruggente malinconia squisitamente umana. Si poteva correre il rischio di farlo diventare un pulp schizzato, allucinato, senza controllo, una creatura costantemente affamata alla ricerca dell'effetto spettacolare, con la brutta abitudine poi di americanizzare il tutto e renderlo un giocattolo difettoso. Invece la sorpresa sta tutta qui. Igort è perfettamente consapevole del fatto che non può e non deve strafare con il promettente soggetto di sua proprietà. Una propria identità riesce lo stesso a ritagliarsela, proponendo un curioso ibrido fra opera teatrale e graphic novel. Le soluzioni visive non mancano di certo, soprattutto in fase di montaggio, con dettagli in primissimo piano da evidenziare, uno schermo che si scompone e si compone di frammenti di oggetti di scena che giocano col tempo e lo spazio e dissolvenze incrociate, molto ben implementate. Si rimane quindi affascinati, ti senti coccolato da un cineasta alle prime armi che sa già il fatto suo. Vuole catapultarci in un contesto criminale scevro da qualsiasi cliché gomorristico. L'importante nella pellicola è assegnare una voce anche ad una location decadente, pure fagocitante, livida ma sempre meravigliosa nei suoi segni analogici, una Napoli pronta a ingerire i suoi interpreti e renderli schiavi del loro destino. Il titolo gode anche di una soundtrack vibrante che volutamente si scontra con l'impianto stilistico messo a punto. Echi di un grido disperato si traducono in tracce insidiose che condizionano una regia molto attenta a non sminuire la silhouette e il carisma del trio Tony Servillo, Carlo Bucci Rosso e Valeria Golino. Il difetto principale che si può riscontrare all'interno di 5 e il numero perfetto è proprio la sua impronta decisa, particolareggiata paradossalmente. Non è un film per tutti e non ci prova neanche a vendersi come giostra testosteronica o parodia di genere, no? Siamo in una dimensione sospesa in cui l'impegno e la dedizione si notano in ogni fotogramma e non c'è nessuna scena inutile o di troppo. È un prodotto made in Italy diverso assolutamente ma non pregno di spacconeria, adrenalina ed effetti grafici ridondanti. Una volta compreso questo punto fondamentale per godersi il film state pur certi che lo apprezzerete pienamente come è successo con me. Altamente consigliato dal sottoscritto, qui Antonio Cianci, il raccata film con la recensione di 5 e il numero perfetto ha finito, un like se vi è piaciuto il video e fatemi sapere se siete già riusciti a recuperare il film sotto nei commenti. Un saluto carissimi seguaci, del raccata film, ciao, alla prossima!